Il caffè della peppina non si beve la mattina e con la telecoltà Ma perché, perché, perché la peppina fa il caffè Fa il caffè con la cioccolata poi ci mette la marmellata Mezzo chilo di cipolle, quattro, cinque caramelle, sette ali di farfalle E poi dice che il caffè è? Il caffè della peppina non si beve la mattina e con la telecoltà Ma perché, 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 ma perché? Uh la la, uh la la, uh la 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 Questo è il balzer che è il buon scerino Uh la la, uh la la, uh la 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 Questo è il balzer che fa la 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 Dai, 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 tagli una spinta Tagli una spinta perché così non va Dai, 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 tagli una spinta Tagli una spinta e dai che partirà Nella stetta sconfinata a quaranta sotto zero Sono fermi in mezzo al cielo I cosacchi del lozar Ma po po così tondo che farà Rotolando sulla neve fino al fiume arriverà Ma po po così tondo che farà Rotolando sulla neve fino al fiume arriverà Rotolando sulla neve fino al fiume arriverà Quaranta quattro gatti in fila per sei Corretto di due Marciarono combatti in fila per sei Corretto di due Poi baffi allineati in fila per sei Corretto di due Le code dritte dritte in fila per sei Corretto di due Quaranta quattro gatti in fila per sei Corretto di due Marciarono combatti, fila per sei, corretto di due Con i baffi allineati, fila per sei, corretto di due Le cose dritte, dritte, fila per sei, corretto di due Corretto di due